questo programma è offerto da euronics gruppo tufano mister risparmio accademia mugnano pentole italiane antiaderenti più buono con te in ogni momento lì coffee semplicemente unico sud forni ti circonda di calore pratico life la casa che vorrei punto zero moda cusa me signori e signori benvenuto alla trasmissione del gambero grosso tv tanto vado al bagno quando ci vediamo che ne so fra una mesata un mese e papà la figura niente da ci fatta da di capito a minimo pochi vini due piccini ma che si si compitendo ci sto lavorando ciao a tutti e mangiatevi la pizza guardate tutto casino che sta accadendo in un bevichioraggio mi sa comanda come faccio allora la comanda? la comanda non la trovo la comanda lo sapevo ti sei persa nei meandri della cucina eh ma per male che ci sono io io sarò per te come il figlio d'Arianna che ti proteggerà dal minotauro ah io lo sape a quale minotauro ci sono prerute i corni a giversa comanda ma che ci ha fatto? eh lo vedi lo vedi lo vedi che il filo ti serve in cucina il filo importante in cucina ma quale un filo che ha già fatto il bracciolo questo filo non mi serve era farata cosa mi lo tengo a mente ma non mi ricordo allora per questo problema di memoria io ti voglio insegnare oggi la tecnica del grande chef giapponese Shizuro Karaoke Karaoke? ah si chiamava un chef? ti racconterò una storia ah fa un pressa un pressa perché mi non ho già io e anche cosa fai? io so che c'è storia che stai tirando per Roma in Giappone viveva il grande chef Shizuro Karaoke che fu abbandonato dalla compagna e soffrì 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 talmente tanto che abitando a Kyoto aprì un ristorante nella sua città e lo chiamò appunto Kyoto scaccia Kyoto arrivarono moltissimi clienti e lui per velocizzare le comande inventò una cosa particolare sai cosa inventò Karaoke? no che inventò? Karaoke è un microfono ma che microfono è un microfono? inventò una tecnica per velocizzare le comande capisci? abbinando delle basi musicali delle canzoni agli ingredienti capito? per esempio adesso vi serve una base di zucchero una base di zucchero ma fu dolce? ragazze il panno degli angeli per favore un secondo! subito! un secondo! un secondo! per coppa di chi 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 il pollo eccolo qua! ma il pollo ci vuole un Daniele Silvestri sopra e sale no sale no sale no sale no sale no sale no le rose di questa giardina mamma mia sienti anche pure io tavolo 15 Alex Britt va a piglia 7000 caffè va e perchè? perchè ha già fu tiramisù scusate ma il tavolo 12 sta aspettando da più di mezz'ora siente io mi sono sfastriato da questa cucina uuuuuh ricordati di me no no chi si può fermi dal bar mi fanno piacere tenere i tu la cucina e la canzone e ti ricordi io Marco Massini cammino attendo chi mi ha sfastriato proprio lì Marco Massini? mai non mi chiamano Marco Massini secondo me la canzone vaffanculo nooo ma vedi sta bella sta ma che devo fare? tu mi devi spiegare perchè quando fai la quattro stagioni metti solo due ingredienti sulla pizza perchè non è proprio la quattro stagioni e che? la pizza è in mezzo di vita ah davvero? scusa posso avere un tavolo? si lei si prego prego grazie mille Ugo Ugo scusi posso fare un segno? grazie grazie si accomodi solo? solo un pranzo veloce 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 sportivo prego prego si accomodi al tavolo 5 la vengo a servire subito un pescavo un pescavo avete visto chi è arrivato? chi è arrivato? i nasse ma come nasse? l'ufficiale giudiziaria nooo la finanza chi è arrivato? non mi sta fassare un coppia di spina Ugo Maradona ma perchè Ugo Maradona sta andando a finanza? ma la facciata deve stare là Ugo Maradona Ugo Maradona mi fatti ugo mi fatti grazie e benvenuti al cabaret oggi ci divertiremo tantissimo però prima di iniziare vorrei dirvi che per evitare assembramenti anti covid al termine dello spettacolo eviterei di fare le foto anzi addirittura io le anticiperei ancora prima di iniziare quindi senza affollarvi sposto il microfono ed uno alla volta accomodatevi qui sul palco accanto a me per la foto grazie ecco ancora un altro un altro ancora un altro ancora possiamo iniziare una sera dovevo fare uno spettacolo ad Agropoli in provincia di Salerno partì nel tardo pomeriggio a un certo punto si fece buio provai ad accendere i fari dell'auto non si accendevano se li erano rubati ma siccome alla partenza i fari c'erano non ho mai capito come li hanno rubati stavano a sotto e lato chi usava salvatore salvatore mi serve un foglio una penna e un vocabolario e che devi fare? mi hanno lasciato una tema ahahahah tema vocabolario tu sei mezzo scemo vero? io la stavo guarito fino a ieri mi hanno detto che sono tutto scemo scusami vabbè comunque un po' d'acqua magari senti che c'è un po' di raucerio vai senti fai senti no perché ho sudato pensa stavo dentro al golf a spostarlo mi è arrivato pure uno con la scirocco no Giuliano con la scirocco con la scirocco allora rettifico tu sei tutto scemo no ma mica ho sudato qui no perché mi hanno lasciato un'agila e questa non l'ho capita però e lì ho sudato tanto agila perché era agila non si faceva prendere un po' di acqua in casa vabbè mi prendo un bicchiere d'acqua mi prendo un bicchiere d'acqua e così fai incazzare i clienti tu così li fai incazzare i clienti e se ne vanno ma così si 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 sto scherzando chi si è arrabbiato ma così a me tipo ieri quello che era tutto imbufalito lui era imbufalito per la pizza con la bufa no cazzo la pizza con la bufa l'era imbufalito perché dice che gli hai chiesto troppo per la macchina 51 euro 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 guarda che io a lui gli ho chiesto 1 euro ahah quale 50 metti altri 50 è colpa mia si è venuto con la escort mo dimmi la verità ma n'escorto gli vogliate meno di 50 euro ma questo non so dai per piacere meno di 50 euro eh il numero di talerno no però c'ho la tarda e d'amore allora azeta il nome e il cognome azeta ragazzi benissimo allora e vabbò come disse quello che mi prendessi un polpo serva tu sto a scherzare mamma mia da euronics gruppo tufano fino al 2 marzo più prendi meno spendi il meglio della tecnologia ti aspetta con uno sconto da 50 fino a 500 euro su tanti prodotti selezionati e in più prima rata a settembre e non è tutto vieni nei nostri store e scopri il grande concorso tufano vip premia in palio tre auto per very important person euronics gruppo tufano un mondo più avanti e pieno di sorprese con la tua famiglia con gli amici di sempre con i tuoi cari più buono con te in ogni momento ladies and gentlemen mister risparmio show cominciamo con nuove magie con dei prezzi così le magie le fa mister risparmio ma se il mago non serve che ci facciamo qua sparisce info su mister risparmio shop punto it matrimonio in vista scegli lo specialista in abiti da sposa punto zero sposa uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro con punto zero sposa dire sì è più facile hai una vasta scelta con più di 200 modelli per tutte le misure grazie alla nostra sartoria interna sarà possibile qualsiasi personalizzazione dell'abito punto zero sposa scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it per una sposa felice ci vuole punto zero sposa punto zero punto e basta ecco qua un po' che sa la farina l'acqua l'olio è fatta pizza nonna nonna che te sei grande che hai quello mi serve per pensare a nonna capito? nonna nonna che baffi grandi che hai ma già fanno poche cerette tale qua la mamma sa nonna nonna che forno grande che hai quello è sud forni nonna hai visto la nonna che hai fatta la pizza agrostato da nubla nonna nonna è bella nonna ma è risciopera a scuola vai a fare un po' l'influencer va mamma ma è com'è pesante sud forni ti circonda di calore specialisti del settore per arredare la tua casa e il tuo ufficio tanti prodotti e grande qualità il nostro obiettivo da sempre tutte le novità le trovi sul nostro sito www.praticolife.com il mio lavoro non finisce al ristorante lo chef deve stupire sempre anche a casa mistero il mio segreto Accademia Mugnano estrema resistenza a tagli e graffi antiaderenza straordinaria è tutto made in Italy dal design alla produzione Accademia Mugnano è questo il mio segreto Gennaro devo andare nasco da terre calde e lontane nasco da terre calde e lontane e lontane unico ha riscattato di te pellecchica dovete sapere che io se posso permettermi io sono presidente di una squadra di calcio il Real Sartu è una squadra del mio ristorante è una bella squadra pensate che l'ultima partita abbiamo vinto 3 a 0 in casa no a tavolino perché gli avversari non si sono presentati proprio del resto una squadra di calcio di un ristorante come poteva vincere a tavolino e volevo chiedervi insomma visto che approfittando che siete qua io vorrei far fare il salto di qualità questa squadra ecco mi servirebbe un mister un allenatore come voi voi siete disponibili sì sì ma per fare una grande squadra ci vogliono e grandi e buoni giocatori anche giocatori? e te? allora si può fare Bussi 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 ma che è successo? Bussi 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 No, lo sanno tutti anche nei film, nelle pubblicità, hai mai visto l'animale del capitano quale è, con le sulle spalle? Un bastoncino! Ma quale bastoncino? No, è sofficino! Ma che sofficino? Il croccolo! Il croccolo, la scimmietta! La scimmietta? Eh! Ui, non mangio mai mangiate la scimmietta congelata! Vi prego! Pussi! 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 Aiutatemi! Vi prego, aiutate! Fatelo per me! Che stasera non mangerò! Guarda, siete povero? No, domani c'è un aranzi del sangue! Il medico mi ha detto, vieni di giù! Più leggero! Pussi! 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 Ma chi stai telefonando? A Gerebis, che voglio dire a quanti fugi le cigne delle congelate! Pussi! 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 Sto cercando di tre ore, questo sbaglio, è stato facile! Vi prego, aiutatemi! Fatelo per sto ragazzo, che ha perso il nonno! Ha perso il nonno, scomparso? No, se ne hai faiuto con la polacca, vado a trovare un stato! Pussi! Pussi! Pussi, ma una domanda! Tu, Pussi, che animale è? Il pesce gatto! Ma io stai dando una scala! Pussi! Pussi è il pesce gatto! Eh sì! Cioè, noi stiamo cercando un pesce gatto? Esattamente! E forse non lo troviamo, perché il pesce gatto magari sta in calore! Oh vero, può essere! Buona idea, sì! E vuole me a bere sotto il forno? Come no? Vuole me a bere sotto il forno? Voglio me a bere sotto il forno? Pussi! 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 Sul tuo forno, Pussi! Pussata passanien! Fratelli, finito questo periodo di malattie, la gente si è dimenticata degli operatori sanitari, degli infermieri! La chiesa deve pregare per questi santi che hanno sacrificato la loro vita, in che mondo viviamo, dove andremo a finire, fratelli? È vero, è vero, è vero, dovremmo fare una raccolta fondi, coinvolgere i benefattori, le associazioni, tutti, tutti quanti, non solo noi da chiesa, come fanno? Ha ragione, ha ragione, ha ragione, a proposito, sapete che non ho fatto la sanità, sulla mala sanità? Allora, questo giovanotto va a farsi una visita, perché teneva la gamba che si era fatta di colore viola, arrivano i tuoi riusciti, e questo stai muovendo, che si è tagliato, ma che stai dicendo, lì tengo 30 anni, non lo so, hai ragione, ma pensi che può morire, gli tagli la gamba, gli dice, dopo un mese vieni a fare un controllo, dopo un mese va bene là, dottor, guardate, pure che sta da gamba è viola, un noccio, si è tagliato pure qui, ma che stai dicendo, hai ragione, tu pensi che tengo 30 anni, perché che cosa, pensi che rimane vivo però, gli tagli pure quella da gamba, gli dice, dopo sei mesi va a fare un controllo, che la sardeggia è rotella, dottor, guardate, pure il castotto è qua, mi sono fatto viola, hai ragione, voglio, mi sono in un po' di giudizio che scambi la casa, non ho ragione, vai io, a proposito, a proposito, ci siamo scordati di mangiare, mi siete dimenticato che si fa prima di mangiare, padre? Ho ragione, voglio usare il mio romano e mettere la coppa alla tavola. Ognuno è sui. Padre devo prendere il portafoglio, mi devi aspettare. Padre Luigi, chiudete anticipato? Certo, riposta. Questo è uno che giocherà, il mio fiore all'occhiello. Ma tu che ruolo so? Qualsiasi ruolo l'importante è che giochi sempre titolare, deve sempre giocare titolare, sempre. E perché? Io se mi sito in banchina a sfungo. Hai visto a sfungo la banchina? E che ruolo vorresti giocare? Se devo giocare attaccante. E perché? Faccio tutto cavallo. Caro Ugo, a lui ci tengo particolarmente perché lui è proprio lo specialista delle punizioni. Davvero? Infatti, già sono stato cacciato tre volte. Tre volte l'hai cacciato, ma l'hai tornata a pigliare. Però anche il suo tiro segreto, qual è il tuo tiro segreto? Il tiro di piatto. Il tiro di piatto. Facci vedere come fai il tiro di piatto. No, Apo, mi metti scuola. No, facci vedere a Ugo Maradur come fai il tiro di piatto. Vabbè. Ma no, così, volevo dire a piattere. Vabbè, posso fare il tuo campo. Va bene, va bene. Allora, scusami, ho fatto veramente tardi, però guarda fuori c'era l'inferno. Che questo è il motivo per cui non mi sono fatta venire a prendere con la macchina. Un po' per non farti aspettare sotto casa mia, che è una cosa che mi dà un fastidio di pazzi. Ma anche e soprattutto perché, non lo so, io trovo che sia simbolo dell'indipendenza di una donna il fatto che lei venga con la sua automobile. Come il fatto che ci troviamo direttamente al ristorante. Però non mi fa intendere, eh. Cioè, voglio dire, io non sono una di quelle donne. Voglio l'indipendenza, ma non solo l'indipendenza dell'uomo. Anche quella della donna va rispettata. Tutte e due insieme. Tu che cosa ne pensi? Ma io penso... Esattamente, sono proprio d'accordo. Cioè, nel senso, no, tutti questi movimenti femministi che stanno nascendo negli ultimi anni e che mettono l'uomo da parte senza puntargli una telecamera addosso. Quando avrebbe bisogno di prendere i suoi spazi, le sue responsabilità. Eh, vedi, vedi, tu che ne pensi dei movimenti femministi, quelli che sono nati proprio settimana scorsa a Roma? Guarda, proprio questo stavo pensando. Bravo, bravo, bravissimo. Io questo credo. E poi bisogna rivalutare anche la figura. C'è storicamente l'uomo ha una forza, ha una prepotenza, ha un'indipendenza. E questa deve essere messa al pari della donna, che comunque è sempre più importante. Eh, mi sembra giusto. Però deve essere rivalutata, perché ultimamente vi stiamo soffocando. Io penso che sia proprio giusto così. Tu che ne pensi? No, guarda, hai toccato... Eh, no. Cioè, sì, scusami, non ti volevo contraddire. Ladies and gentlemen, Mister Risparmio Show! Cominciamo con nuove magie. Con dei prezzi così, le magie le fa Mister Risparmio. Ma se il mago non serve, che ci facciamo qua? Sparisce! Info su misterrisparmioshop.it Cerimonia? Evento importante? Ci vuole Punto Zero. Uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento. Dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it Ti aspettiamo al nostro atelier unica sede in via Dante 49. Punto Zero. Convenienza ed eleganza per tutte le misure. Punto Zero. Punto e basta. Ecco qua, un po' che sa, la farina, l'acqua, l'olio e fatta la pizza. Nonna, nonna che tu sei grande che hai? E quello mi serve per pensare a nonna, capito? Nonna, nonna che baffi grandi che hai? Ma già fanno poche cerette, tale qua la mamma sa. Nonna, nonna che forno grande che hai? Quello è sotto forno, nonna, hai visto la nonna che ha fatta la pizza? Agrostato da nubile? Nonna, nonna. Bella nonna, ma è risciopera a scuola. Vai a fare un po' l'influencer, va. Ah, mamma, ma è com'è pesante. Sud Forni, ti circonda di calore. Una forte esperienza fatta di impegno e professionalità. Una ricerca continua di nuove soluzioni. Il mio lavoro non finisce al ristorante. Lo chef deve stupire sempre, anche a casa. Mistero, il mio segreto. Accademia Mugnano, estrema resistenza a tagli e graffi. Antiaderenza straordinaria. È tutto made in Italy, dal design alla produzione. Accademia Mugnano, è questo il mio segreto. Gennaro. Gennaro. Devo andare. Gennaro. Nasco da terre calde e lontane. Ti raggiungo ovunque per addolcire la tua giornata. Il mio nome è Lee Coffee. Semplicemente unico. Da Euronics Gruppo Tufano fino al 2 marzo, più prendi, meno spendi. Il meglio della tecnologia ti aspetta con uno sconto da 50 fino a 500 euro su tanti prodotti selezionati. E in più, prima rata a settembre. E non è tutto. Vieni nei nostri store e scopri il grande concorso Tufano VIP Premia. In palio, tre auto per very important person. Euronics Gruppo Tufano. Un mondo più avanti e pieno di sorprese. Con la tua famiglia. Con gli amici di sempre. Con i tuoi cari. La più buono. Con te in ogni momento. Chef Tubbio è lo chef che ha mille certezze! Ho una su tutte. Quando va messo in sale nell'acqua? Ora? Ok, vabbè. Lasciamo stare, non riesco a prenderlo oggi e allora oggi perderò invece al volo l'occasione della vita quella di parlare di cucina vegana nel mio ristorante con il grande chef Fabrizio Fabrizi, forza! Buonasera, buonasera, eccoci qua. Sempre torno, sempre con molta alza pantegrina. Ma che piacere averla qui con noi! Ma veramente, ma con voi tutti, ma soprattutto con lei ma proprio con una che mi piace, proprio tanto a me mi piace. Eh, immagino che stai facendo... Ma no, è troppo! C'è qualcosa di più, no? Questa vegana qua, si vede che proprio c'ha l'occhio secco della vegana, proprio si vede. Ma proprio secco, secco. Ma secco proprio... Vabbè, insomma, parliamo... Insomma, io non le dico più che lei assomiglia a un personaggio proprio... Sì, vabbè, me lo dico così, girando così. Certo. A chi? Uguale. A chi? Ambra Angiolini. Ambra Angiolini. Gli appartengo, se ci tengo, se prometto, ma mantengo... Uguale proprio, uguale. Vabbè, di cosa parliamo, di che ricetta parliamo oggi? Allora, oggi parliamo di una cosa vegana, c'era, diciamo di recupero, ecco. Pane così ammollato, un po' d'acqua e soprattutto il sale dell'Himalaya. Sì, le polpette si ammollano, si mette il sale, capito? L'Himalaya, mi raccomando, quello rosa coltivato, si pesa... E poi... E poi niente, ti metti un altro po' di sale e poi... Il sale, certo. Assaggi perché sei al sale, devi assaggiare. Il sale, certo. C'è un po' di sale e poi... E poi niente, ti metti un altro po' di sale d'olio, olio, pezzemolo, basilico... E poi si metti un altro po' di sale e poi... E poi? E poi buttavo! Perché? Sanno del cazzo! Uff! Eh, stiamo sempre a finire che questa cucina... Pure quanto mi manca! La burchetta d'alizia! Sì, voglio coronare il mio sogno. Ecco su, ecco su... Vai con la live! therapy... Cucca o s Leonardo... Facedere cura... E poi avrai ci metto da chiamare... E poi passandolo... Cucca maisò. «Che salta? Faccia spaccata? Sì resta sana ma ne va che sia nenè nè... Si ci scerra rinta niente... Se tu metti che… C'è pens주 sulla base a me manà! Mi so che una bomba e gli ascolta da faccia su un pa Mio caro Silvio, ti do un consiglio Sta cucarino non ti serve più a me Anche alla Rai, tra tanta guai Quella che uscasse era un posto pure a me Se si sceglie rita niente, buona età Ci pensi solo uno spazio e mannerà Lisa, fai un video a mio figlio! Certo! Posso? 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 Ma che è? Posso? Ma che è il video? Ma quale video? Posso andare in bagno? Ah ma certo, prego, prego! Accomodatevi! Dottore! Oddio! L'hai fatto più ancora? Però che meraviglia che sei, incredibilissimo, perfetto Ti è perfetto, mi hai fatto paura davvero Paura, dottore, io volevo fare l'attore, non il fenomeno da baracchone Dove vado combinato così? Grazie Sei perfetto, hai imparato benissimo questo metodo Stani Scalzi Come si chiama? No, stai a vedere Stani quello là Sì, sì, lo so Sei bravo, sei diventato una cosa sola con il personaggio Bravissimo Per fare Joker Non lo devi interpretare, devi essere lui Hai capito? Ecco dove è il metodo Stani Scalzi Bravi Lo so però Joker, poi vai sui set Va sui set Joker Voi mi avete mandato a fare le feste per i bambini Ma i bambini, i bambini sono dei giudici incredibili I bambini sono esigenti Ma sono perfetti Loro giocano seriamente Se vai bene ai bambini vai bene a chiunque Sì, lo so, ma io volevo fare tipo Jack Nicholson Non il pagliaccio da McDonald E te stai sempre a lamentare Con tutti i soldi che fai con le fotografie Che ti metti nei ricazzini in braccio E chiappi le feste dappertutto E basta Ma le fotografie, dottor Faccio qualche foto, gioco l'erio Dieci euro di più non mi danno Stai ci hai fatto pagare meno? Sì, ma dieci euro, cosa di niente da niente? Dieci euro adesso, domani Mi dite il dieci per cento a me, lo sai, sì Dottor, scusate La ragazza è timida, vorrebbe fare una foto con lui E' possibile Va bene Che I soldi a me, i soldi a me Che io sono la sua gente Vanno bene Sono la sua gente, si allora per sé Vanno bene Vanno bene C'erano un po' di fiore meglio, bene Facciamo tre, dai, va Come ti chiami? Valentina Stai dritta, bene, così brava Tieni dietro la tenda, bellissima Vai A me non mi piace perché sono un attore Pringi Perfetto Grazie, grazie a voi Spaggete la voce Mandate altra gente Mandate altra gente Molti mi hanno chiesto Ma adesso sono tanti anni che sei a Napoli L'avrà imparato il napoletano Io ho risposto No Perché i napoletani Le parole le traducono in un modo Quando le accoppiano con altre Non si traducono più nello stesso modo Vi faccio qualche esempio Bambino In napoletano è creatura Ma Gesù Bambino non è Gesù Criatura O Bambaniel Duro è tuosto Ma duro di comprendonio Diventa Capi e Chiuova Fermo è fermo Ma stati fermo diventa Dente errente Ma gli vado a tirare un dente Si dice Ma vaga a tirare una mola Che la mola non è il molare Tu a Napoli ti vuoi tirare un canino Un incisivo Ti vai sempre a tirare una mola Io ho conosciuto gente Che si è tirata 40 mola E poi Fateci caso Fa un bel film alla televisione Stasera sta un bel cinema A televisione Che io per anni mi sono chiesto Come fa questo cinema A trascinta televisione Ma l'apice Quello che per me Erano i vetri Delle finestre Qui a Napoli Sono anche le radiografie Ma vaga a filastra Ecco qua Un po' che sa La farina L'acqua L'olio E' fatta pizza Nonna, nonna Che tu sei grande che hai E quello mi serve per pensare A nonna Capito? Nonna, nonna Che baffi grandi che hai Ma già fanno poche cerette Tale qua la mamma Nonna, nonna Che forno grande che hai Quello è Sud Forni, nonna Hai visto la nonna Che ha fatta la pizza Accrostato da nub Nonna, nonna E' bella nonna Ma è sciopera a scuola Vai a fare un po' l'influencer Va Mamma, mamma E' come pesante Sud Forni Ti circonda di calore Le cose semplici Sono sempre le migliori Le persone cambiano Crescono Maturano Anche noi abbiamo scelto di cambiare Perché sentiamo il bisogno di rinnovarci Vogliamo un futuro più sostenibile Per voi e per i vostri figli Da Desi Home Troverai sempre la nostra passione per la qualità Scopri le nostre offerte sul sito www.praticolife.com Il mio lavoro non finisce al ristorante Lo chef deve stupire sempre Anche a casa Mistero, il mio segreto Accademia Mugnano Estrema resistenza a tagli e graffi Anti-aderenza Straordinaria E' tutto made in Italy Dal design alla produzione Accademia Mugnano E' questo il mio segreto Gennaro Devo andare Nasco da terre calde e lontane Ti raggiungo ovunque Per addolcire la tua giornata Il mio nome è Lee Coffee Semplicemente unico Da Euronics Gruppo Tufano fino al 2 marzo Più prendi meno spendi Il meglio della tecnologia Ti aspetta con uno sconto da 50 fino a 500 euro Su tanti prodotti selezionati E in più Prima rata a settembre E non è tutto Vieni nei nostri store e scopri il grande concorso Tufano VIP Premia In palio Tre auto per very important person Euronics Gruppo Tufano Un mondo più avanti E pieno di sorprese Con la tua famiglia Con gli amici di sempre Con i tuoi cari Più buono Con te in ogni momento Cominciamo con nuove magie Con dei prezzi così Le magie le fa Mr Risparmio Ma se il mago non serve che ci facciamo qua? Sparisce Info su Mr Risparmio Shop Punto Zero Sposa Scopri in anteprima tutti i modelli Anche su www.zeromoda.it Per una sposa felice Ci vuole Punto Zero Sposa Punto Zero Punto e basta E poi per me è molto molto chiaro tutto quello che voglio Cioè mi rendo conto che uno deve trovarsi un compagno perché l'età in un certo qual modo avanza Però ho le idee chiare su quello che voglio nella vita Per esempio una convivenza andrebbe fatta in tempi brevissimi Non trovi E poi nel momento in cui si prende una casa È importantissimo che uno abbia ognuno la propria stanza e i propri spazi Per esempio tu vorresti dormire nella stessa stanza? No perché secondo me davvero non è Vedi questa cosa che hai fatto ora Hai spostato la mano Ora c'è la metà del tavolo E la metà del tavolo significa che uno ha il proprio spazio e l'altro ha il proprio spazio Insomma questa cosa è anche nel rispetto dell'essere maschile Eccoci qua, eccoci qua Salve signorina La signora vuole ordinare? Esattamente anche questo è importante Anche nell'ordinazione si deve comprendere qual è la coesione dell'uomo e della donna Per esempio io dovrei avere un'attenzione verso di te che sei un uomo A capire che cosa vuoi ordinare Scusami voi in base al tuo spazio Perché la donna deve essere anche coccolante Deve poter comprendere Deve poter abbracciare il proprio uomo in quella che è la sua identità E in quella che è la sua virilità Signori scusate non vi volevo interrompere ma fra me Non è importante quello che lei sta dicendo Intanto ci deve portare soltanto due pizze Quello che è importante è capire qual è l'essenza di quest'uomo che noi abbiamo davanti Così che io nel momento in cui prendiamo casa insieme Possa finalmente comprendere che cosa è l'essenza di quello che lui desidera Io non ho proprio idea Questa cosa a me non mi è mai capitata È una cosa proprio inaudita Ma com'è possibile? Sono mortificata Adesso vediamo come si può risolvere E come si può risolvere? Non lo so ma ditemi voi Allora che cosa succede qua? Don Pasqua abbiamo un problema con questa cliente E ricordatevi che la cliente ha sempre ragione Dipende signora dipende Cosa è successo? La signora ha ordinato dei crudi di mare E ha trovato questa perla in un'ostrica Guardate 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 E pensare che la signora poteva strozzarsi con questa perla che ha trovato nell'ostrica Meno male che la signora è una persona onesta e ci consigna la perla Ma che ti ha capito? Non vedo proprio niente No signora Non sbagliate Non scherziamo Le ostriche le ho comprate io al mercato che sono anche me Sì ma le ho ordinate io però Sì ma la perla non l'ha mangiata Tanto è vero che l'ha scartata Che fate una bollecchia Allora me la doveva ingoiare la perla Sì ma se la ingoiamo Poi dava la colpa a me che aveva mangiato la perla nel mio ristorante però signora Don Pasqua come ci dobbiamo comportare con questa cliente In effetti questa cosa non è mai successa Eh ma doveva capitare Doveva questo è un segno del destino Io per esempio ho una nipote che si chiama perla E ho trovato la perla In effetti Don Pasqua ha ragione Puri tengo una nipote che si chiama Gemma E l'altro giorno non ho trovato un orecchino Che significa? Io ho un nipote che si chiama Anillo Non ho mai trovato nessun anello Nemmeno una ferina Signora facciamo una cosa Facciamo valutare questa perla e poi decidiamo Io ho già mandato le foto ad un amico mio E mi ha detto che la perla vale almeno mille euro Mille euro? E chi è questo amico suo? Mille euro? No signora non scherziamo la perla è mia L'avete trovata nel mio ristorante Che ho comprato io le ostricche Quindi non scherziamo proprio signora Sentite voi state pieni di sbagli Adesso chiamo il mio avvocato Ah e chi è il suo avvocato? Chi è un indenditore di frutti di mare? Chi è l'avvocato Taratufolo? Chi è? No no l'avvocato è mia e l'avvocato di mare Di mare? E che te non studi la barcatura? Don Pasqua però in effetti la cliente ha ragione E' stata pure fin troppo onesta Poteva pure non dirci niente Ma che fai? Qui fai se di solitare con la signora? Non scherziamo La pena l'ho trovata nel mio ristorante Vabbè facciamo così Qual è il conto della signora? Questo Questo qua? Questo è il conto della signora? Sì Ha preso antipasti di mare? Sì Frutti di mare? Ecco qua Signora questo è il conto è per lei Vado alla cassa Mi aspetti alla cassa Che poi vengono a pagare Addirittura 200 euro ostrica E che c'è steveno da standipasto? E' perla signora E' perla c'è steveno Vogliamo fare in un altro modo? Non vi piace questo sistema? Ho trovato Facciamo testa e croce Io scelgo testa Le scelgo e croce Andiamo a vedere Signora testa Hai sbagliato Mi dispiato E ho sapevo Andate alla cassa e pagate Muovete subito venga E viste come si fa? Don Pasqua Ma su quella moneta Ci stavano due teste No tre ci vuole anche questa Sorella cara Vai 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 nel mio ufficio C'è la cassetta Oggetti sbarriti E posa la perla Va Azza questo è perché Non avete mai trovato Neanche un anello Anelli no Orologio Bracciale Orecchine Sì Comunque volevo dirti Che io sono veramente felice Di essere venuta Qui con te oggi Perché ho trovato Una comunione di anime Io condivido Scusami Tutto quello Che mi hai detto Fino adesso Tutte le parole No No Aspetta Aspetta Non mangiare ancora Non mangiare Ti prego Perché io vedo in te Quella forza E quella mascolinità E quella virilità Che io Ho sempre cercato E quindi ho bisogno Di farti questa domanda Sei tu L'uomo che cerco Ma chi? Quando mai? Non era manca stracca Ti ero appena Con Pasquale L'unnamorato Mi si è affamorlato E ora Anzi Mi va a capire Non si è rispettato Il mio caraccio Aspetta Ma vengo Pasquale 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 Ecco la cameriera Ecco a voi Acqua frizzante Per i signori Cameriera E' possibile un ginger? No mi dispiace Il ginger è finito E allora un'aranciata? No l'aranciata non c'è La devono portare E allora Se è possibile Un bitter? Eh sentite Facciamo così Aspettate Sì E' lui Prego Che cos'è? E' il numero del bibitar Chiamate direttamente a lui E gli dite quello che volete E ve lo porta E' pratica E' la cameriera Dunque Volevo parlare di un aspetto Aspetto in un momento Ognuno La cosa importante E' un matrimonio Un filmino Ecco E io proprio di questo Volevo parlare Per immortalare I vostri momenti belli Il matrimonio Io chiamerei un videomaker Adesso ti chiamerei un videomaker Ritenere un compagno Il mio che tiene Perché il coso Che vola dall'alto Come si chiama? Aiuto Si chiama drone Si chiama Roberto Compaio mio Non è drone E' un'altra macchina Che vola dall'alto Ti capite? E allora Un'idea molto romantica Potrebbe essere Quella che hanno avuto I marchesi Giordano Le loro nozze da genio Brava Fare volare un elicottero Che lancia Petali di rosa Al termine della cerimonia Eh no Andiamo Prima hai avuto un'idea buona Ma ora mi viene Mentre in un'accusa Non va bene Questa cosa Perché? Perché mi sape Tanti blitz Su fatti l'elicottero Poi ti fai a casa Ti fai a casa Capite? Una festa Non ci amiamo A casa Ma i miei Non ti sintossiano E i miei Sì però E allora I tavoli Parliamo dei tavoli Come li nominiamo I tavoli? Ecco I tavoli Come li nominiamo I tavoli? Come li nominiamo i tavoli? I tavoli con mamma e ti mannò Rubiamo Rubiamo Quest'idea Dei santi Ti ricordi tesoro? Ecco Quando hanno sposato La loro figlia Hanno nominato i tavoli Con un'opera letteraria E allora E allora I tavoli Gli sposini Li potremmo chiamare Promessi sposi Per omaggiare i manzoni E quello dei testimoni Lo chiamiamo Commedia Per omaggiare Dante E i sepolcri A chi ci mettiamo? La nonna La nonna Amore ti ha dato che il bacino È sempre buono Ma se vi è abituato A questo sepolcro No Amore Ma tu sei proprio sicura Ma io lo amo E dici di quell'idea Che hai avuto tu? Allora voglio Vedi l'idea Dove hai detto Lo trinca amici Trinca amici Trinca amici Facciamo che ogni tavolo Mettiamo il nome di un quartiere Per esempio quello vostro Arnaccia Il nostro ti ha disposto il callotezzo 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 E poi facciamo pallonette Santa Lucia In coppio vomara Scusa E il papà e la mamma Dove li metti? Appunto In coppio vomara Ah E beh Siamo molto lontani Dal vomaro A callotezzo Io se voglio andare Da mia figlia Com'è c'è vacca? Scine per fuori Vincere 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 A vorrei capire Ma ti ho mandato un buco A me Com'è Sto qua Sì E tu ti fai Gli ammola Baccia Ti fai Gli ammola Dite Dite Siete Per concludere Questo bel pranzo Che cosa ci consigli Il conto Andare a pagarlo E quali Un complero Com'è Si scherza E non sai Ordinare un bel dolcino Per esempio Un dolce Ma non Non è dolce Che la gomma Senta proprio il zucchero E tutto il buco Per tenere il cervello E se mangiare Come un sfogliatello Se mangiare La stampata I stampati Tra l'altro Sono chiamato La tua pasticcina A fare? Per ordinare la torta Per mio figlio Che è un compleanno Suo Augurissimi Grazie a Stato Ti ho invitato pure A te C'è la cosa Dove ero a fare La festa? Co O sei notte Che ti chiamavo a fare Mi ha portato Il mio piatto A to Com'è Com'è Sono trasendato Le pasticcine Me facciamo Le pasticcine Ma le pasticcine Lasciam , le pasticcine Come perczę non c'è nessuno, non c'è nessuno no compagni, ai tuoi vicini mettiamo la piccola pasticceria ci vuole compagni, ma quella piccola pasticceria ma come hai chiuso? a me hai una grande pasticceria eppure potevo ordinare per esempio, non so, dei macarons dei macaroni vicinati compagni, ma che schifo i macaroni vicinati, ma che gusto non c'è nessuno, non c'è nessuno a questo punto non lo so nemmeno io vabbè, comunque la torta che gusto è? oh, e ti faccio la torta che più va di moda e qual è? vi do la torta Rocher come? e tu la torta Rocher ma ora a me ma io vado un po' a me ma chi sta vendendo? a mandro profiterò con lei io coppo lutto e coppo babà e parto di una pacchera bu capri che non è siciliana andavo a guardare e ha fatto minchia e che pacchera e roppo vai città che a me la fai solo la torta paradiso e ti ha presentato una zassa a pietra va pasticceria bro ma che va a fare? al meglio di uno strumento o no? prima che faccio qualche cassata bra vado a chiedere qualche dolce vai vai sei ragazzo un gelato che vai buono tu e poi abbiamo lui il pezzo forte lui è lo straniero eccomi qua per me è un grandissimo onore stare al suo cospetto e dove sei? io sono da Roma sia presente Capodemundi? Roma Capodemundi il gledatore al mio segnale scatenato all'inferno io però so già come lo dico subito mister mi consenta io desideri fare il capitano maglia numero 10 tanto tra me e lei guardi ma guardi bene io sono biondo occhi azzurri fisico pressante che io ricordo eh? solo un pochiotto che io ricordo? mi sembra di dire Cironato eh che sono soddisfazione beh non voglio che assumi giù di Cironato che invece all'asso del bastone? Napoletano ha una capacità di sintesi che è qualcosa di eccezionale a volte con una massimo due parole si riescono a concretizzare concetti che in italiano sono lunghissimi vi faccio qualche esempio per esempio scoprire frequentazioni comuni dopo un lungo periodo di tempo a sci appariente oppure che ne so meccanismo meccanismo se non mi fa piacere mi posso muovere ragazze mi ha sposto al momento la macchina vai a vola a vola va ma io sto facendo lo spettacolo qui ah sto facendo lo spettacolo? eeeh porti il tuo microfono a presse parlo mentre sposto la macchina va ah va bene meccanismo congegno elettronico che non funziona QV cercare di convincere una persona a fare una cosa che altrimenti non avrebbe mai commesso a babbià però mister qua sta il conto ma figuratevi se io faccio pagare il fratello di maradona per carità allora ci avete pensato cosa possiamo fare per portare questo rialzato sul tetto del mondo beh beh bisogna spendere per i buoni giocatori ma almeno centomila euro centomila? eh i ma accattabili che sono sicuro che vengono tutte le partite ma mette a spendere i centomila euro mister per carità che sto conto e ci vediamo alla cassa arrivederci qua ci sono vabbè? che faccio? quando vuoi? e c'è? sono home e merda che cazzo che posso fare? e ancora la ce la fare? è che è che cazzo ti posso fare? eeeh 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 che cazzo ti posso fare? e va e va ecco qua era un acro eeeh e? a granito va buono che cazzo ti posso fare? eeeh 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 con lui e che sono a me merda grazie dai dai facciamo un'altra volta da capo scusami di 9 prima dai dai facciamo un'altra volta e che sono a me merda ma che sono a me merda bravo grazie grande ristoratore grazie a tutti